Mi metto la gramma! Mi metto la gramma! Mi metto la gramma! Mi metto la gramma! Minchia, stai messo davanti cura! C'eri già capito che io ve la volevo rubare! Ciao, presello! La regala di Natale, eh? Grazie! Anche a casa mia, se vi ho... Ma vi drogate qui! Ma ve la danno gratis? Avete due anni? Due anni sono venuta a casa tua, con i miei! Magari! Mi metto la gramma! Aspetta che faccio la raffaella! Ma cosa c'è un autore che fa gli insegni e fate un casting? C'è, voi vivete in un mondo vostro! Che cosa sei venuto a fare a casa mia? Per i miei, perché mio papà lavorava con l'Antonella! Poi papà lavorava con l'Antonella! Disapparenza addirittura! Questo è venuto a chiedermi i soldi! E quanto hai mangiato a casa tua? Ma cosa sei mangiato? Ma scusa! E' meglio dal tuo vestito! No, no! Eh tu non ci torni più, eh! No, non ti dico! A te vuoi! Ah beh, allora, allora... E' benvenuta! E' benvenuta! E' benvenuta! E' benvenuta! E' benvenuta! Sì! Capitan Marco! Capitan Marco! Capitan Marco! Capitan 앞에 cibo tuitos! E' benvenuta! E' benvenuta! O seg peers a naturalmente 1506! Il vostro cuore è diventato, la sua bocciata, passando il tuo nuovo tempo, la sua bocciata è valore e costosa. Capitano Marco, capitano Marco, valore capitano, la sua bocciata è una avventura di bambina delle cose che trascorrono al canto, si, valore capitano, ho messo a me, che non si conosce, perché un amigo in vicino. Grazie! Capita Marco! Papa! Capita Marco! Bene! Bene!